ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi dopo tanta attesa finalmente il video che vi avevo promesso siamo qua con mario abbiamo appena tirato giù il motore dalla gtr 33 proprio perché come vi dicevo su instagram e come vi dicevo in altri video precedenti era arrivato il momento per noi di fare la nostra manutenzione diciamo annuale sul motore di questa macchina pazzesca ma cosa dobbiamo fare nello specifico e che cosa andremo a vedere in questa serie di video che stiamo girando molto semplice quanta manutenzione e quale manutenzione bisogna fare su una macchina così tanto elaborata ovvero una macchina che ha circa 700 800 cavalli in più di quando era originale quindi un'elaborazione molto pesante motori come questo sono fatti solitamente per fare una gara per fare uno sparo per farci qualche giornata mentre invece questo motore sono tre anni che ormai gira senza particolari problemi e soprattutto sono più di 10.000 chilometri che viene scannato pesantemente tanto da aver dovuto cambiare già un cambio nell'utilizzo della vita del motore quello che ci tengo a dire che ogni uscita con questa macchina è stata un'uscita di delirio ovvero quello che voi avete visto nei video è stata la vita totale della macchina per tutti questi 10 11 12 mila chilometri che ha percorso mai cambiata una marcia senza prendere il limitatore perché purtroppo col cambio manuale è abbastanza difficile e soprattutto non abbiamo mai risparmiato fiamme questo non perché sono pazzo o siamo pazzi ma semplicemente perché questo è quello che abbiamo sviluppato dopo tanti anni ed è la nostra cavia è l'oggetto su cui noi facciamo gli esperimenti e cerchiamo di portarlo al limite in modo poi da poter dare ai clienti la massima sicurezza su quello che andiamo a realizzare sulle loro auto ma non è tutto qui perché c'è stato un problema pochi giorni prima di tirare giù il motore e questo sempre perché non si sono rispettate le regole e le tabelle di marcia prestabilite ovvero questa macchina Mario voleva già smontarla qualche mese fa ovvero prima dell'estate perché avevamo raggiunto il nostro obiettivo di chilometraggio e di sperimentazione era l'inizio degli eventi era l'inizio dell'estate mi scocciava a dire di no per gli eventi perché tutti vogliono ovviamente questa macchina ho detto bene siccome il cambio era andato e la frizione era andata era consumata ho detto mettiamo sul cambio nuovo mettiamo sulla nuova frizione fammi tirare avanti ancora questi 3-4 mesi di eventi di divertimento e poi stronzo e poi in inverno che ci sono meno eventi tiriamo giù il motore questo è andato più o meno bene finché circa un mesetto fa ho cominciato a vedere sulla nostra sofisticata strumentazione interna che la pressione dell'olio non si comportava come il solito ovvero avevo quei 0,5 0,8 bar di differenza rispetto all'utilizzo che ne facevo di solito quindi l'ho segnalato a lui siamo andati a provare la macchina non aveva grossi problemi anche perché noi abbiamo veramente fatto in modo che questa macchina non avesse più problemi di lubrificazione ma c'è sempre il discorso che i componenti soprattutto quelli non prodotti da noi anche se modificati possono comunque avere usura rompersi perché comunque stiamo sperimentando ora noi non sappiamo cosa è successo fatto sta che qualche giorno fa quindi prima di girare questo video la macchina veramente ha avuto un abbassamento della pressione dell'olio incredibile devo dire che per fortuna questa volta il problema si è manifestato mentre guidava mario per una volta ce l'ho fatta a uscire diciamo dalle responsabilità quindi posso scaricare tutte le responsabilità su di lui perché il volante in quel momento era nelle tue mani e ti chiedo che cazzo è successo perché con tutti i lavori che abbiamo fatto pompa dell'olio nitto quindi una delle migliori pompe olio che esistono al mondo modificata sia all'interno che con altri agganci che non vi voglio spoilerare troppo anzi scrivetemi nei commenti se volete nel dettaglio tutti diciamo i particolari di questa elaborazione di questa macchina anche perché se ricevo abbastanza like in questo video abbastanza commenti a questo punto avviamo una serie dove smontiamo e rimontiamo questo rb30 una volta per tutte così siete contenti se invece non ve ne frega un cazzo ci mettiamo... sei impazzito? eh perché? sei diventato matto? ah perché dici sveliamo troppi segreti? no no vabbè eh sveleremo troppi segreti se mettono i like e mettono i commenti mi tocca svelare i segreti riagangiandoci al discorso che ho divagato cosa può essere successo perché a un certo punto un motore come dicevo con tutta questa elaborazione sulla pompa l'impianto dell'olio rivisto radiatori tutto spostato tutto maggiorato all'improvviso comincia a calare la pressione dell'olio perché secondo me abbiamo un problema sul regolatore della pressione dell'olio che è all'interno della pompa perché sopra i 3500 giri abbiamo pressione olio al di sotto comincia a calare drasticamente e è un'ipotesi è perché perché se fosse la pompa dell'olio rotta non avremmo pressione olio zero proprio invece qui se tieni su di giri c'è un po di pressione la pressione quasi giusta mentre invece a bassi giri c'è per fortuna devo dire che ci è successo praticamente 50 metri dall'officina perché eravamo qua all'incrocio si si ha percorso pochissima strada quindi incrociamo le dita che non rompa il cazzo il motore un'altra volta perché il nostro scopo qual era era spaccare questo benedetto motore ma rispetto alle elaborazioni che abbiamo fatto noi quindi i pistoni modificati le bielle tutte le lavorazioni che lui non vuole dirvi e arrivare al punto di dire ok ho trovato il limite è troppo la bielle l'ho persa per strada è meglio stare un po più giù ma cambiare sviluppare e invece no ci ritroviamo sempre a tornare sugli stessi punti dove stiamo combattendo mai da dieci anni che non bastano mai perché ragazzi quello che voi vedete su youtube le macchine con 5 milioni di cavalli che vanno che sfiammano che tirano e proprio come vi ho detto adesso lo vedete su youtube non vedete tutto quello che c'è dietro questa è una macchina che veramente avete visto in tutto questo tempo girare andare agli eventi non essere mai risparmiata non viene mai risparmiata viene trattata bene poi vi parlerò anche della manutenzione che facciamo e che abbiamo fatto durante questi 10 12 mila chilometri e direi che adesso possiamo iniziare a smontarlo ci spostiamo si cominciamo ad aprirlo vediamo in che condizioni è intanto il motore dopo quasi 12 mila chilometri sopra vediamo se si è sporcato se si è incrostato spero di no sennò siamo a figuracce e dopo questo punto tiriamo giù la coppa cosa dici si almeno la coppa i coperchi cominciamo e dopo tireremo via con il tono cosa più grave diamo un'occhiottina con la pila vediamo se qualche impurità non penso che il motore è nuovo è vero che ha patito l'inferno secondo me è come avesse 200 mila chilometri sto parlando per come è stato trattato a livello di sfruttamento non male perché poi mentre smontiamo vi dico che manutenzione è stata fatta su questo motore per questi chilometri bene adesso ci spostiamo direttamente nella sala smontaggio che è qui alle nostre spalle e iniziamo a smontare questo motore mentre mario inizia a smontare i coperchi così finalmente vediamo in che condizioni è la parte superiore dove sono le cam dove ci sono tutti i componenti sopra per vedere se è sporco se ci sono incrostazioni dopo tutti questi chilometri vi faccio vedere un componente molto molto interessante di cui ho parlato su instagram e venite a seguirmi su instagram per non perdervi tutti questi particolari last minute che pubblico venite con me perché è una cosa che non si vede molto spesso quella che vedete qui ragazzi in color oro in questo meraviglioso color oro è la frizione della gtr 33 vedete come grande e come alta adesso la vediamo nel dettaglio frizione e volano insieme ovviamente guardate che volano e soprattutto guardate lo spessore di questo volano alleggerito cioè è praticamente nullo pesa veramente veramente poco adesso la apriamo da sopra così vi tiro fuori i componenti interni vi faccio vedere questa frizione nello specifico come è fatta perché è una frizione molto speciale è una frizione da competizione ma è diversa dalle solite frizioni bidisco e tridisco per come è assemblata per come è fatta tiriamo via per primo lo spingidisco in ergal guardate che bello guardate che leggerezza guardate che qualità il brand della frizione osg ken che non mi sponsorizza purtroppo se volete sponsorizzarmi vengo in giappone a prendere le frizioni il retro è questo tutto rinforzato tutto meraviglioso tutto fantastico veramente bella mi piace tanto all'interno è fatta così nel centro abbiamo questa sorta di granaggio di ruota di pignone chiamatelo come volete che tiene fermi tutti i dischi che adesso andremo a tirare fuori e vi faccio vedere come sono fatti ok è molto simile a una frizione da moto che non è a bagno d'olio per fortuna disco fatto in questa maniera come vedete il rame bellissimo meraviglioso meglio non toccarla con le dita sporche la mettiamo qui dopodiché dopo un disco di rame abbiamo quello in metallo e così via fino alla fine ecco faccio prima a tirare via l'incranaggio centrale così riesco poi a mettere le dita a tirare fuori gli altri dischi vedete come è fatto super rinforzato super bello quindi ragazzi se la matematica non è un'opinione abbiamo una frizione con quattro dischi quattro cazzo di dischi una frizione quad plate chiamata in inglese e questo è poi quello che è il volano e il contenitore dei dischi come vedete tutto assemblato insieme è avvitato si può svitare ma arriva tutto assemblato così già bilanciato e pronto da montare dopo questo piccolo inframezzo possiamo spostarci sul motore perché mario ha già smontato tutto nel frattempo quasi tirato fuori anche i pistoni e noto con abbastanza soddisfazione che abbiamo un motore perfettamente pulito cosa pensi che condizioni lo trovi guarda ti faccio vedere però vedi c'è ancora l'olio quindi non è stato pulito certo certo questo è diciamo i residui dell'olio pulito esatto ma non ci sono incrostazioni c'è da dire che in questo motore l'olio lo cambiavamo ogni circa mille chilometri perché non perché siamo pazzi perché molti sento veramente tante persone che dicono io nella mia macchina cambio ogni 3.000 ogni 5.000 ok può servire può non servire un cazzo noi cambiavamo l'olio quando serviva cambiarlo quando mario sentiva spiegaci tu in base a cosa decidi di cambiare l'olio ogni 1.000 ogni 1.500 ogni 900 ogni 500 una volta è successo per esempio dopo un raduno dopo un raduno dopo lì è stato pesante perché praticamente quando cale il livello dell'olio è perché si mescola con la benzina e allora lì è già troppo tardi cioè non serve niente né rabboccare né fare niente poi sa proprio puzza la benzina e lo senti anche al tatto che non è più il siliconico ma questo è questo che sembra colla perché non dici 60 quindi e dopo invece sembra non dico acqua ma non serve un cazzo quindi indipendentemente dai chilometri fatti bisogna un attimino tenere d'occhio sapere il dato dei chilometri in queste condizioni qua non mi piace più lo cambio quanti chilometri hai fatto 1.500 però non c'è il tagliando strabilito come nella macchina stock ogni 20.000 fare il tagliando già nelle auto diciamo quelle di serie che comprate in concessionario i tagliandi che mettono secondo me sono troppo esagerati c'è tagliandare la macchina ogni 30.000 chilometri anche con long life secondo me è una cazzata secondo me 15.000 20.000 chilometri sono già eccessivi per un'auto non sportiva per un'auto sportiva 5-10.000 chilometri al massimo almeno il cambio dell'olio esatto devi cambiare tutto però in questo caso andiamo veramente a orecchio non solo il cambio dell'olio perché ci tengo a dirvi che in questi circa 10.000 chilometri abbiamo sostituito la distribuzione tre volte tre volte questa è la terza venite a vedere in che condizioni è la cinghia di distribuzione dopo mille chilometri guardate pure come vedete non è che è rotta la cinghia però come vedete inizia già il colore è venuto già via questa una hks in kevlar di quelle buone e salta già via il colore si sta già facendo delle crepettine quindi nonostante siano stati percorsi neanche mille chilometri dall'ultima volta che l'abbiamo fatta la cinghia sta già andando a puttane a livello estetico ma anche a livello tecnico possiamo usarla magari ma ancora qualche migliaio di chilometri che questa qua l'ho già ritirata già una volta a ok si è già mollata e già dovuto ritirare così è così c'è tanta 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 roba tanta manutenzione che molti non vi dicono nelle macchine elaborate ma ma c'è ok adesso visto che qua non abbiamo fatto vedere bene facciamo vedere qua sopra in che condizioni è tutta la parte delle cam e dove c'erano i coperchi per far vedere che è tutto perfettamente pulito qualcuno dirà grazie al cazzo c'ha diecimila chilometri ma ricordiamoci sempre come sono stati percorsi le temperature le temperature che diventa tutta una palla di fuoco qua quando quando facciamo un po gli stupidi adesso andrei ad alleggerire tirerei via la turbina così la facciamo vedere in diretta tenendola in mano come un bambino e poi direi che per avviarci verso la conclusione del video che si sta allungando un po troppo quindi scrivetemi nei commenti e chiedetemi a gran voce la seconda parte la terza la quarta e la quinta tiriamo via la coppa vediamo se c'è qualcosa di brutto nella coppa insomma si spera di no perché questo problema della bassa pressione è successo proprio qui davanti all'officina quindi mi tocco un po i coglioni con le mani senza guanti lo sporcato i pantaloni e quindi analizziamo insieme in tempo reale rial angelo nero per vedere tutto rial non si nasconde niente qua mettiamo tutto in pubblica piazza senza problemi mamma mia ecco è uscito un po d'acqua ma non importa è veramente pesante guardate più grande della mia testa questo turbo è su da praticamente sempre non ha mai avuto problemi è un turbo che avevamo già in casa che più di una volta ho pensato di cambiare sostituire metterlo più piccolo metterlo più grande non lo so perché comunque il progetto è sempre in evoluzione e devo dire una cosa da quando la macchina è stata potenziata a questo livello ho l'impressione di godermela meno perché comunque ormai è diventata una macchina quasi sempre da dritto proprio per come conformata fatemi un piacere scrivetemi nei commenti voi cosa fareste la potenziereste al massimo per usarla ogni tanto come sto facendo adesso ma per fare delle cose fuori di testa o la potenziereste ovvero in questo caso la depotenziereste in modo da potervela godere e usarla un pochino più spesso sono curioso di sentire la vostra opinione adesso come ultima cosa andremo a tirare via la coppa dell'olio come dicevo prima così vediamo in che condizioni è lì sotto e dopo di che traiamo le nostre conclusioni e poi ci vediamo nel prossimo video mario tu cosa ne pensi la preferisci potenziata al massimo e usarla poco o farla un po meno potente e renderla utilizzabile più spesso per andarci in giro normalmente anche più potente più potente poco è buono più potente perché tanto scusami un attimo mica c'è solo questa sì ok però come questa non ci sono altre a livello anche di come si guida e di cosa trasmette sai che abbiamo cercato tanto tempo ma con risultati insoddisfacenti comprare un'altra un'altra uguale abbiamo qua chiedere al cliente se per caso vuole vendere la sua dopo gli mando un messaggio non credo comunque matteo se vuoi vendere la tua skyline mandami un messaggio e quindi quella la potremmo fare più tranquilla per me puoi alzare però fare più su sì sì vai vai vado la catena a scorso vai 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 la dove la manetta guarda tanto c'è il braccio della capra che fa fatica vai e la via che la ri lo lascio su da solo pure lo lascio su così tiro indietro dimmi cosa fare pesa il motore puoi buttare perché lo posso buttare lo puoi buttare tiro su così dai quindi no no puoi lasciare stare perché mi guardi dio quindi dio quindi pesco che cazzo è sta roba qua ciao 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 ciao